video box web è offerto da allora siamo i marshmallow e noi oggi suoneremo qui a porta santo il pilio alla quadrata alla quadrata ciao ciao bella io sono flavio ciao partito da un basetto bella io sono alessio leonardo pasquale siamo a porto santo il pilio oggi è il primo maggio e ci sta sto coso che figa lo facciamo non sappiamo che dirà vogliamo fare un saluto a tutti i nostri amici gennaro la nostra squadra che è il barletta forza barletta ciao grande fratello ci sta una canzone con cagliannello che è il grande fratello io esco basta ci sta in nomination venite tutti alla festa del mondo dal 5 all 11 maggio c'è la sagra dell'ovacca l'ambriaco ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Ciao a tutti, salutiamo Sofia, salutiamo mamma, Ivana, Luppi, Katia, Diego, Anais, Diletta, Robo, Roberto, Maurizio, ci manchi, ciao Robo, lui è l'unico che si salva E' a piccia, e' a piccia Ciao siamo Angelo, Cesoni, Pistolone, Gennaro e Rebecca, tipo confessionale di grande fratello Mi sento osservato Primo maggio, giornata di merda, l'abbiamo battuta Mo te risponde Ciao, si Ciao Ciao Primo maggio, Italia, un Oh, sembrano con il grande fratello Briago Italia, uno Ciao Primo maggio Più due Mi sono più grande C'è un brutto tempo Ciao 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 a Porto San del Pidio a festeggiare il primo maggio E' Ciao 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 Con caldo della madonna Allora, io saluto Giulia, Alessia, Davide Io saluto Giulia, Lignazio, Alessia, Lopez Aisha, Sanolo Aisha Aisha Ciao 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 Primo maggio Porto San del Pidio Siamo sul GF14 di Porto San del Pidio Ciao, buon primo maggio Ciao Buon primo maggio Ciao 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 Buongiorno 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 Chi parla? Viva le cari, viva la f***a Viva la f***a Viva la f***a Dai No, no Rientrale Beh, ciao Mi sento Una del grande fratello Viva la squadra bianca Veramente E niente Non sappiamo se stiamo registrando, però vediamo tutti i nostri amici che ci seguono da casa Oddio, dove sta? Eccola Io mi chiamo Angelica E il vincitore? Angelica Mia, mia I'm Samba Sezzone, un minuto Un minuto Ok, possiamo andare Ciao Mua Questo è grande fratello La bella fra Ciao Ciao Allora confessiamoci Io nomino... Nomino Flavio O quello la che fra me sta a fregare segretta Io vago fra Bella Porco che ho manco Ciao, sono Lorenzo Ti faccio la vaffacura Video Wabax web WTF Ciao Ciao profuga A noi ci piace la patata Viva la c***a Viva la c***a Viva la c***a Nooo Nooo Siamo preoccupati Nooo Ciao a tutti Buon primo ma... Buon primo... Ma come ricordavo che era il primo maggio Ciao Ah non sai che si vede a fare Un annuncio Allora andate su facebook Cercate la pagina L'importanza di chiamarsi liverotti Mettete mi piace Assolutamente questo è il personaggio qui E' ubriaco No Tutti è ubriaco E buon primo maggio a tutti Bello Ciao Ciao Sono Milena Sono l'assessore che organizza il primo maggio Hai visto non è piovuto più Il primo maggio l'unico il più bello L'originale è solo a Porto Santo Elpidio Ciao ciao a tutti E grazie a tutti voi che siete arrivati qui Un bacio Ciao Sono contento di stare con la protezione civile E dare tutto ai cittadini Amo la divisa E rispetto tutti Grazie alla protezione civile Al comune di Porto Santo Elpidio Molto bella E in tutto Tranquilli Vi amo Ciao Ah Addio Oh Oh Uppriaco Ciao 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 Questa festa è fantastica Ciao Grazie internet Radio FM per il sociale Sostieni l'Associazione Italiana sulla Sclerosi Multipla Radio FM Radio FM Porto Santo Elpidio per il sociale E anche questo Ah Primo maggio 2014 Volantino Grazie Ciao 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 Sofia Puzza Ciao Sofì Lo voglio bene Sofia Ciao 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 Zoraia Ciao 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 a tutti Buon primo maggio Buona festa ai lavoratori Ciao 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 Grande francolo Samba sa ballare la samba Ciao ciao, quando è che ritorni? Ci manchi tanto Ciao Ciao Chi saluti? Io saluto mamma Mi saluto Ciao mamma Nonna Ciao Enrica Ciao Ciao, sto al telefono con un amico, se risponde Bella giornata, c'è il sole Ciao a tutti Ciao confessionale, buon primo omaggio da mancerata Chiesse un corpo, sì, cucchette e spacca Ciao Buon primo omaggio Buon primo omaggio a tutti Io nomino Alessio Io nomino Sofia Io nomino Natalie Io nomino a lui Ciao Ciao Ok, vado in cucina Ciao Ciao Surprise Ciao Surprise Ciao Ciao Buon primo omaggio Entra, 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 di ricaricato Allora, parliamo con i presupposti che Bella Io mi chiamo Luca E siamo tutti e due Come si dice Impegnati, giusto? Sì Impegnatissimi Cosa ne pensiamo di questo primo omaggio? Partendo dal pranzo Fantastico, tutti insieme ci siamo divertiti Abbiamo chiacchierato, bevuto, riso Abbiamo pagato una barca di soldi Una barchissima di soldi e non abbiamo mangiato un emerito cavolo Comunque, da Rossella A Luga E' veramente tutto Quindi noi vi aspettiamo tranquillamente in qualsiasi altro momento In cui Videoboxweb.it ci sia Pace, amore Peace and love O pisellone, però quella è un'altra cosa Ciao 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 Mi chiamo Bria Ciao A tutte le ragazze Ciao Ciao Ma tu che fai? Tu che fai? Siamo arrivati Siamo arrivati Ciao Ciao E quando cavolo parti adesso? Si, sei partito Sei fantastica Ti amiamo Adempazzino Aspetta Arriva lui Abbiamo paura Allora partendo dal presupposto Che lui Diciamo una cosa Che cosa fa un maiale che cade al terzo piano? Speck Speck Briago E tu non lo sapevi Non lo sapevamo Ragazzi Ragazzi Veramente Ragazzi Devo dirvi Oh no 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 Dime una 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 Ragazzi Ho comprato Un paio Di pantaloni Mimetici Comunque sia Il primo maggio È solo Porto Santo e il figlio Diffidatela Qualsiasi altro Cipita Nova San Giorgio C'è solo Videobox 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 Non lo possono super Basta Vieni Andiamo 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 Addio Oh Saluta Ciao Lui è Kevin No ma che fuck up Vieni quadrati Ciao Ciao Buon primo maggio Ciao Sono Ness E tu Ho 12 anni No 13 E Vieni a primo maggio Ciao Ciao Amici di Youtube Parle Tutore Sì 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 Ciao Caga Va bene Non ci salutiamo Ciao Buongiorno Ciao Giorgio Bordinga E un saluto spesale A Flavio Sgambati A Dennis Bruschi Allora Siamo la squadra Di Gymnestrada Di Fermo Emogliano Stiamo aspettando Di fare Il secondo spettacolo Alle 7 E qua in piazzetta E nel frattempo Si brinda Eeeh 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 sono tornati di nuovo ciao ciao stiamo guardando non toccare grazie non touch dance ciao 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 a tutti buon primo maggio si con la pioggia ciao 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 come stai basta dai guarda ciao 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 sono Antonio lei è Barbara è una ragazza molto siamo di ragazzi moltigenerazionali che cazzo dice in questo senso auguri buon primo maggio a tutti ma le vedete per Luca salve a tutti primo maggio Porto Sant'Ecrissofle bellissimo complimenti all'organizzazione siete veramente in gamba è stato un piacere ciao a tutti ciao 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 ciao